Allora, siamo con gli organizzatori del Gigi Dattilo Playground, un torneo di basket che da una dimensione cittadina arriva a una dimensione invece nazionale. Ci spiegate questa iniziativa che va da ieri e finirà domani? Sì, intanto buongiorno a tutti. Siamo partiti l'anno scorso per riprendere un po' il torneo cittadino, quello che è storico qui a Catanzaro, che è il Gigi Dattilo Playground, o meglio il memory al Gigi Dattilo, e ci abbiamo messo un tocco nostro per cercare quest'anno di espanderlo da un torneo cittadino a farlo diventare, metterlo all'interno di un circuito nazionale. Ce l'abbiamo fatta, siamo all'interno del circuito STD col circuito Classic e con il circuito LP3 che è sottorializzato con sud-nord e centro. Diciamo che l'obiettivo principale di questo passo in più che abbiamo fatto è quello di dare anche visibilità alla città di Catanzaro, far sì che il nome di Catanzaro sia tra le liste tornei nazionali di tutta Italia era il nostro obiettivo, è un nostro obiettivo continuare, continuare a portare il nome di Catanzaro in queste fasce, in modo tale da dare visibilità a questa città che ha un potenziale importante. Grazie.